Ad ogni buon conto, ragazzi, le questioni sono molto più semplici di quelle che magari molto spesso vengono fuori. Normalmente, io ripeto, il cammino all'interno del Movimento 5 Stelle è un cammino di umiltà, è un cammino difficile e quindi ovviamente questi palazzi li possono inglobbare. Noi proseguiamo con un'umiltà perché noi stiamo lavorando per il popolo. Quando il popolo saprà finalmente che noi stiamo lavorando per lui, li spaziamo tutti quanti via.